Io vorrei chiedervi un altro applauso sia per i nostri musicisti, i nostri maestri, anche per i componenti del coro perché stanno lavorando in condizioni naturalmente non ottimali, c'è molto vento, anche i cambi di pagina diventano davvero difficili naturalmente c'è qualche, chiamiamolo così, tempo morto, che poi tempo morto non è, ma dovuto appunto alla difficoltà nel girare perfino le pagine quindi questo applauso non l'ho sentito però Continuiamo ancora con la traviata, il celebre brindisi, questo è il momento dell'incontro dei nostri protagonisti Violetta e Alfredo Violetta è una cortigiana d'alto bordo e nel salone della sua casa c'è una festa e le viene presentato Alfredo Alfredo che è innamorato di lei, segretamente da diverso tempo l'ha anche seguita nel corso della sua recente malattia ha chiesto sue notizie, si è recato presso la sua abitazione chiedendo sue notizie Bene, Alfredo viene indotto a proporre un brindisi Per quanto riluttante propone appunto questo brindisi che è Libiamo negli Eti Calici al quale si unisce subito Violetta, seguita dagli altri invitati e in questo brindisi cantano gioiosamente le lodi del vino e dell'amore subito dopo Alfredo confessa il suo amore a Violetta con il tenore Leonardo Gramegna e il soprano Monia Massetti noi ascoltiamo il brindisi della traviata Grazie 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 Grazie